Il T-Lorange è un'intonazione cromatica che si fonda sul contrasto tra arancione e turchese. Si tratta di un look molto sfruttato in campo cinematografico perché permette al volto degli attori di spiccare. L'obiettivo del T-Lorange nei film è in sostanza quello di esaltare le tonalità di arancio naturalmente presenti nella pelle umana e di contrapporle a un ambiente in cui domini il colore complementare, ossia una tinta tra il verde e il blu, come appunto il turchese. La creazione di un look T-Lorange deve necessariamente iniziare in fase di preproduzione da un accordo tra scenografie, costumi, trucco e fotografia. La direzione stabilita deve poi essere rispettata in fase di produzione e solo rifinita, se necessario, in fase di color. Se io vesto gli attori di rosso e li riprendo all'interno di una baita in legno, in post produzione posso pure spingere a forza il look T-Lorange nell'immagine ma il risultato sarà tutt'altro che organico. Si torna al solito Blade Runner nella cucina della zia. Ora vediamo una tecnica semplicissima per sviluppare in pochi secondi un look T-Lorange quando si può sfruttare un'immagine che si presta a questa interpretazione cromatica. In questo compound ho semplicemente applicato degli effetti di base per normalizzare le immagini e renderle un po' più leggibili, nonché più piacevoli da visualizzare a schermo. Entriamo nel Color Warper e scegliamo l'interfaccia Chroma Luma. Selezioniamo i colori che ci interessano ruotando l'asse del cubo e ci siamo. Questo è decisamente un T-Lorange. Ora non ci resta che intensificare due colori complementari all'interno dell'immagine. Iniziamo col T-L. Ok. E chiudiamo con l'orange. Fatto. Prima e dopo. Copiamo questo nodo, CTRL-C e vediamo che succede se lo applichiamo un'altra immagine. Prima e dopo. Direi che funziona. Spostiamoci su una clip che invece non si presta a un'interpretazione T-Lorange. Prima e dopo. L'effetto del nodo è chiaramente visibile ma l'impatto è ben diverso da quello che avevamo ottenuto con le immagini precedenti. In casi come questi, se proprio dobbiamo spingere a forza il T-Lorange nelle immagini, possiamo preporre al Color Warper un effetto volto a spennellare sul girato i colori che ci servono. Possiamo utilizzare le wheel come le curve, come preferiamo. Inoculiamo del ciano dove non si trovano gli incarnati, in questo caso ombre e alte luci, e andiamo così a nutrire un po' più sostanziosamente il Warper del nodo successivo. Se necessario possiamo intensificare anche l'arancio a centro curva, ma in questo caso non mi pare proprio ce ne sia bisogno. Ecco qua. Il risultato non è certo elegante, ma questo è quel che accade quando l'estetica di un film viene scelta in post e confligge con la natura del girato. Ovviamente spendendo qualche minuto in più con le curve e le wheels per calibrare l'effetto e lavorando anche sullo hue versus hue e sui livelli di saturazione si possono ottenere risultati migliori, ma si tratterà sempre di una forzatura, niente che abbia a che vedere con un lavoro organico studiato o partire dalla preproduzione. E questo dovrebbe farci apprezzare quanto pensiero ci sia dietro un film fatto bene, quanto lavoro si nasconda dietro ogni più piccolo elemento che finisce in scena. Meraviglia.